Benvenuti ragazzi, parliamo ora dei romanzi di Gabriele D'Annunzio. Allora abbiamo detto che D'Annunzio nell'81 si diploma al Cicognini di Prato e dall'81 fino al 1889 D'Annunzio sarà a Roma a frequentare i circoli mondani della capitale, a farsi conoscere come poeta, come scrittore, come intellettuale e anche perché no come seduttore, come tromber de femme. Allora durante gli anni del soggiorno a Roma D'Annunzio scrive quello che è uno dei suoi romanzi più importanti, Il piacere, che viene pubblicato nel 1889, lo stesso anno in cui esce Mastro Don Gesualdo di Verga e che è il manifesto dell'estetismo. Allora il protagonista è il conte Andrea Sperelli, che come tutti i protagonisti dei romanzi di D'Annunzio è un alter ego dell'autore. Il conte Andrea Sperelli appartenente ad una famiglia aristocratica della capitale è un'esteta, è un intellettuale, è un esteta decadente, è anche un uomo che ama il piacere, che ama le avventure galanti. Infatti vive diverse avventure galanti e soprattutto si trova a, diciamo, scegliere tra due donne completamente diverse. Da un lato c'è Elena Muti, la donna sensuale, la sua ex amante, perché il romanzo inizia con un flashback che ricorda la storia d'amore tra Andrea Sperelli ed Elena Muti. Elena Muti è una donna sensuale, è una donna che, anche se adesso si è sposata con un altro uomo, continua ad attrarre sensualmente Andrea Sperelli. Dall'altro c'è un'altra donna, Maria Ferres, una donna angelo, una donna spirituale, una donna delicata, sensibile. E quindi, ecco, Andrea Sperelli si trova in mezzo a questo triangolo amoroso e non è capace di scegliere. Quando sceglie Maria Ferres anche per liberarsi del ricordo di Elena Muti, durante l'unico e ultimo amplesso che Sperelli avrà con Maria, Sperelli si lascia sfuggire il nome di Elena. E quindi Maria scappa in orridita e lo lascia solo. Lo lascia solo e il romanzo si conclude così, con un protagonista che non è capace di scegliere. Quindi, come capite, la trama è molto esile, però la struttura narrativa è complessa, perché tutto è incentrata sul flashback e sulle ellissi temporali. Lo stile è molto prezioso e questo è un romanzo fatto più che altro di descrizioni, di riflessioni del protagonista. Cioè, si può anche considerare un romanzo psicologico tutto incentrato sulla psiche del protagonista, sulle sue ambizioni e sul fallimento del suo progetto di vita. perché questa incapacità di scelta di Andrea Sperelli si può considerare una inettitudine del protagonista. In realtà il protagonista è un inetto, è un uomo che non ha forza di volontà, anzi ha una volontà debolissima. viene detto già all'inizio nel ritratto di Andrea Sperelli e quindi lui l'estetismo diventa una forza distruttiva. Cioè, l'estetismo, i suoi progetti di vita, le sue ambizioni, i suoi amori diventano delle velleità che il protagonista non riesce a realizzare e quindi diciamo che ecco c'è anche anticipato il tema dell'inettitudine cioè della mancanza di volontà, della debolezza di volontà che porta appunto in questo caso il protagonista della storia a non scegliere e quindi ecco in questo romanzo già D'Annunzio anticipa il tema dell'inetto, dell'inettitudine che poi verrà ripreso da Italo Sbevo. Tra il 1891 e il 1893 D'Annunzio è a Napoli e questa è la fase della bontà. Diciamo così, i romanzi della bontà c'è tanta influenza di Tossoi e di Dossoieschi. Infatti nel 1892 escono i due romanzi, chiamiamoli romanzi della bontà, che sono Giovanni Episcopo e L'Innocente. Giovanni Episcopo, è la storia di Giovanni Episcopo, è molto influenzata da Dossoieschi. Infatti questo protagonista si può considerare utilizzando appunto le parole di Dossoieschi stesso, un umiliato e offeso perché è un uomo, anche lui un uomo debolissimo, succube del collega. Il collega che gliene fa di tutti i colori, gli seduce la moglie, lo umilia in tutti i modi possibili e immaginabili, fin quando a un certo punto, quando Giovanni Episcopo vede quest'uomo picchiare suo figlio e allora non ne può più e reagisce uccidendo il suo tormentatore. L'Innocente. L'Innocente è un romanzo più famoso di Giovanni Episcopo. Abbiamo dell'Innocente, un film, cioè dall'Innocente è stato tratto l'ultimo film di Lucchino Visconti. Allora, l'Innocente invece è influenzato da Tolsoie, se vogliamo semplificare, perché tratta il tema dei valori conugali e dell'adulterio. perché il protagonista è Tullio Hermil che è sposato con una donna che lo ama e che gli è fedele, però lui non riesce a rimanere fedele a sua moglie perché possiede quella che D'Annunzio chiama multanimità. Che significa? Molte anime, molte anime e quindi molte personalità spesso in contraddizione e quindi ci può essere in lui il marito amorevole, però nello stesso tempo anche il seduttore, l'amante. Tutto questo perché è anche generato da un vitalismo sfrenato e questa era una caratteristica di D'Annunzio, del resto ripetiamo che i protagonisti dei suoi romanzi sono sempre degli alter ego. Il vitalismo sfrenato che porta quest'uomo e lo stesso scrittore a vivere tutte le esperienze della vita anche quelle sessuali e quindi ecco perché quest'uomo non può rimanere fedele alla moglie e vive diverse avventure galanti che naturalmente fanno soffrire la moglie fin quando questa donna vinta anche dall'amarezza cede anche lei ad un seduttore e rimane incinta. Rimane incinta e nasce il bambino che sarebbe poi l'innocente della storia perché? Perché questo bambino appena nato paga le conseguenze di questo adutterio in quanto Tullio Ermil inizia ad odiarlo già appena nato e quindi consuma su questo povero bambino su questo povero neonato la sua vendetta nei confronti della moglie perché durante una notte di tormenta lascia la culla il bambino nella culla all'addiaccio praticamente e quindi il bambino muore assiderato e quindi ecco che appunto il bambino è l'innocente vittima di questa di questi tradimenti conugali vittima innocente di questi tradimenti conugali andiamo avanti allora andiamo ad altri romanzi nel 1894 abbiamo il trionfo della morte e l'anno dopo quello che può essere considerato il manifesto politico del superomismo e cioè le vergini delle rocce allora il trionfo della moglie anche qui abbiamo un amore travagliato tra Giorgio Aurispa che è un alter ego dell'autore ed è un superuomo e Ippolita Sanzio che è invece una piccolo borghese Giorgio vorebbe lasciare Ippolita perché perché Ippolita è una piccolo borghese quindi ha i gusti mediocri e volgari dei borghesucci però nello stesso tempo non riesce a liberarsi dall'attrazione sensuale che prova per lei e quindi quest'uomo che vorrebbe realizzare grandi cose nella sua vita è però diciamo attirato verso il basso da questo amore che lo rende mediocre cioè lo attira verso il basso verso la mediocrità e allora a un certo punto per la risperazione decide di liberarsi dell'amante con un omicidio suicidio cioè praticamente decide di suicidarsi gettandosi da una rupe e durante cioè nel consumare questo omicidio si trascina anche la povera Ippolita va bene quindi muoiono tutte e due anche se Ippolita non vorrebbe morire insieme al suo amante e nel 95 sono le vergini delle rocce e abbiamo detto il manifesto politico del superomismo allora il protagonista è un altro alter ego dell'autore si chiama stavolta Claudio Cantelmo e questo qui cerca una donna allora si sente superiore agli altri uomini alla mediocrità imperante e allora non vuole fare un figlio che sia diciamo come tutti gli altri vuole generare un erede con una donna a sua pari perché vuole generare un superuomo in grado di guidare il paese e quindi addirittura lo cerca lo cerca in mezzo alle rocce in questo castello in mezzo alle rocce nella in un'antica famiglia aristocratica lo cerca presso tre sorelle della famiglia Capece Montaga una ripeto un'antica famiglia aristocratica non sa quale delle tre sorelle scegliere quale delle tre sorelle sia diciamo la più adatta per generare questo erede questo superuomo e alla fine poi lo sceglierà va bene cioè come al solito come al solito tutto questo si risolve nella nella mancanza di scelta nella nell'inettitudine e quindi il romanzo si conclude senza una scelta e però ecco quello che è importante nelle vergini delle rocce è proprio perché in fondo come vedete anche qui la trama è molto esile quindi è una storia fatta soprattutto di riflessioni di descrizioni ecco le riflessioni del protagonista esprimono tutto il suo sdegno anti-burghese le sue idee anti-democratiche perché quest'uomo disprezza la massa disprezza la mediocrità borghese ecco perché non si vuole confondere con la massa e il suo disprezzo naturalmente si rivolge anche alle istituzioni democratiche e al Parlamento che è il regno di questa volgarità di questa di questa mediocrità di questo letame praticamente imperante e quindi ecco vorrebbe che diciamo dal suo amplesso nasca un superuomo in grado di guidare il paese va bene e di quindi con la bellezza col culto della bellezza col culto dell'arte col culto della poesia col culto del verbo ecco liberare la nazione dal fango della mediocrità borghese e queste sono le vergini delle rocce poi nel 1900 abbiamo un altro romanzo il fuoco il fuoco si svolge in una venezia grigia autunnale sempre tenebrosa nuvolosa e anche qui c'è un protagonista un alter ego che si chiama Stelio Effrena e che è un poeta e un musicista che ama tantissimo Wagner e sogna quindi come Wagner di realizzare un'opera d'arte totale va bene sapete che Wagner era appunto l'artista per eccellenza perché era lui che realizzava l'opera d'arte totale però anche in questo caso l'opera d'arte non verrà mai realizzata anzi il romanzo si conclude con i funerali di Wagner a segnare proprio l'impossibilità quasi della realizzazione di quest'opera d'arte in questa Venezia autunnale e decadente si consuma anche la travagliata storia d'amore tra il protagonista e un'attrice non più giovane si chiama La Foscarina che dovrebbe essere la musa dell'autore del protagonista ma che però non lo ispira più di tanto allora dietro La Foscarina sicuramente c'è Eleonora Duse e dietro se le frena c'è D'Annunzio e quindi diciamo che questo romanzo sarebbe anche la trasfigurazione in romanzo della storia d'amore tra D'Annunzio e Eleonora Duse terminiamo terminiamo con l'ultimo romanzo almeno l'ultimo degno di nota del 1910 forse che sì forse che no allora anche qui abbiamo un super uomo questa volta si chiama Paolo Tarsis che rimane colpito dalla notizia che la sua amante la sua ex amante è impazzita e allora per liberarsi dalla depressione dallo sconforto vuole compiere un'impresa eroica un volo va bene quindi un'impresa diciamo con l'aereo con l'aeroplano un volo vorrebbe sorvolare tutta la diciamo tutta la costa dal Lazio fino ad arrivare alle coste della Sardegna un volo che per quei tempi era molto audace infatti il Tarsis pensa di non farcela e invece alla fine questa impresa si realizza e quindi in questo caso il protagonista ritorna a vivere e si libera quindi dallo sconforto va bene ecco questi sono i romanzi di D'Annunzio tenete conto soprattutto del piacere va bene che si può considerare il manifesto dell'estetismo e delle vergini delle rocce che si può considerare invece il manifesto politico del superomismo per il momento abbiamo finito dell'estetismo